Sono sempre più le persone che vivono sotto la soglia di povertà nel nostro paese, anche nelle realtà locali e tra i tanti problemi che ci si trova costretti ad affrontare, uno dei più gravosi è la difficoltà ad acquistare farmaci. In particolare nelle Marche nel 2016 è pervenuta una richiesta al Banco Farmaceutico per un totale di 17.000 medicinali attraverso i 76 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico. La giornata di oggi vuole essere semplicemente un ringraziamento per tutti i volontari, le farmacie e tutti gli enti che hanno contribuito alla giornata della raccolta del farmaco che è avvenuta lo scorso 11 febbraio. Dovrebbe essere un momento per fare un attimo il punto della situazione e diffondere i risultati di quella che è stata la giornata sia a livello nazionale che a livello locale che interessa a noi qui nella provincia di Pasarubino e nella fattispecie a Fano. Il Banco Farmaceutico si occupa di fornire farmaci agli enti attraverso la giornata di raccolta che si tiene in tutta Italia il secondo sabato di febbraio di ogni anno e sempre nella nostra regione, in particolare nel 2016, sono stati raccolti circa 10.000 farmaci di automedicazione donati dai cittadini nelle 113 farmacie aderenti all'iniziativa. Ma la collaborazione che si realizza non solo con la giornata di raccolta ma anche grazie a donazioni aziendali che mettono a disposizione farmaci e strutture, personale medico e piattaforme web online. Attualmente gli enti farmaceutici convenzionati che ricevono farmaci dal Banco Farmaceutico sono circa 1.500 e comprendono associazioni di volontariato o di promozione sociale, fondazioni, cooperative sociali, enti morali ed enti religiosi.